Un benvenuto agli ascoltatori e un saluto a Don Lorenzo Maria Vatti. Saluto anche da parte mia. Don Lorenzo Maria Vatti, direttore di Radio Nuova Trieste, benvenuto a Radio Diffusione Europea. Tratteremo un argomento particolarmente delicato perché soltanto pochi giorni fa in Francia è stata fatta una modifica all'articolo 34 della Costituzione andando a introdurre il diritto all'aborto. Don Lorenzo, cosa possiamo dire? Intanto la cosa è terribile perché nasce per la prima volta nel mondo. Da una parte del mondo, negli Stati Uniti, alcuni stati abrogano definitivamente la legge sull'aborto e la Francia invece dice no. È un diritto assolutamente riconosciuto dalla Costituzione. La Costituzione è legge super primaria per cui la legge delle leggi. garantisce un certo tipo di sviluppo di legge e quindi sempre, almeno finché questa Costituzione sarà in auge, sempre sarà necessario avere una legge sull'aborto. Questo è terribile. Ecco, quello che colpisce particolarmente perché ovviamente la delicatezza dell'argomento è assoluta e che in ogni caso di fronte a un aspetto di questo tipo ci sono stati dei festeggiamenti. La Torre Eiffel ha mandato nel cielo raggi luminosi, migliaia di persone si sono ritrovate con grandi manifestazioni di gioia, ma è proprio il tema in sé che forse, a prescindere, dovrebbe richiedere un'attenzione forse più sobria. Allora, intanto io sono un confessore per cui, soprattutto a Roma, ho confessato diverse donne che hanno avuto questa esperienza e molto spesso la sensazione che ho avuto è quella che non fossero loro a determinare quest'azione, ma gli agenti esterni, che sono genitori, marito, paura del lavoro, tutta una serie di cose. Non c'è gioia sicuramente in questo tipo di decisioni. Quello della reazione così della Francia è probabilmente, nel mio modesto punto di vista, legato un po' anche a cosa sta vivendo la Francia in questo momento, cioè sono stati enormi colonizzatori e oggi si trovano con tutta una serie di culture non francesi all'interno del loro territorio. E quindi tra queste culture c'è quella musulmana in modo particolare e quindi probabilmente è un modo, è un altro, è un ennesimo modo che il governo ha per mettere un pochettino il freno alla cultura musulmana. E quindi secondo me questa è semplicemente una manifestazione di successo legata ad altre, non è specificamente sulla legge. Ecco, il Presidente Macron, la Francia in generale, di fronte a questa riforma costituzionale si pone come, a parole ovviamente, faro per l'intera umanità. Come potrà essere recepita questa modifica della Costituzione altrove? Nel senso ci saranno degli esempi, ci saranno delle emulazioni oppure no? Io credo che le emulazioni ci saranno perché siamo nel mondo occidentale, che è un mondo che ormai ha cambiato completamente il volto e che quindi in qualsiasi modo è destinato a una trasformazione se non a una fine totale. perché ormai siamo insoddisfatti di ogni cosa e cerchiamo di trovare il senso nelle cose che hanno sempre meno senso. Io scherzando ho detto peccato che questi 780 non siano stati loro ad essere stati avvortiti, però ci sarebbe da pensarlo questo. L'80% dei francesi, secondo un sondaggio, è favorevole? I francesi hanno vissuto dalla rivoluzione francese in avanti uno stato di ebrezza e di autoesaltazione e di libertà da ogni tipo, a ogni forma di religiosità e di moralità in modo veramente fortissimo. Cioè sono quelli che portano avanti una trasformazione negativa di tutta la società, secondo me. non so se hai la sensazione di vedere nella società il dibattito legato all'aborto e che chi difende l'aborto si pone come un faro dell'umanità, chi invece non lo difende diventa una figura retrograda e ostile. Hai anche tu questa sensazione? Ma questo è l'esempio più drammatico, però di cose di questo tipo se ne vedono tante ultimamente. Se tu cerchi di difendere un certo tipo di equilibrio, vieni considerato ostile. Anche la questione delle guerre attuali, se uno cerca di difendere un patteggiamento, viene considerato pericoloso ed ostile. Ma quello che veramente preoccupa è la mancanza di equilibrio nell'affrontare la realtà oggettivamente. Per cui si deve a tutti i costi ottenere delle aperture senza vedere perché per migliaia di anni queste aperture non c'erano o se c'erano erano di altro carattere. Quello che secondo me manca non è l'aborto ma è l'educazione sentimentale. Si parla di gender, si parla di educazione sessuale, ma non di educazione sentimentale. Se noi dovessimo ricevere un'educazione sentimentale ci sarebbe un'accettazione della nostra corporeità e un'esaltazione dell'altro sesso. Mentre l'aborto non fa altro che portare ancora di più alla logica del femminicidio e dell'abbandono della donna. Stiamo vivendo un momento estremamente particolare. Tutto quanto sta cambiando, o meglio è già cambiato, ma forse dobbiamo ancora comprendere bene cosa sia cambiato di fatto. Sta cambiando anche il punto di riferimento probabilmente di quelli che sono i valori. Non è che stiamo rischiando di cadere nel valore dell'aperitivo? Secondo me siamo ancora peggio. Noi siamo arrivati al valore dell'autonomia. Secondo me arriveremo al punto in cui le macchine salteranno sui marciapiedi facendo gente e quando verranno arrestate queste persone davanti al giudice diranno avevo fretta, non pensavo e il giudice dirà vabbè siamo arrivati a un punto di assoluta perdita di un concetto di società. La Francia ha approvato questa modifica della Costituzione come sottolineavi 780 voti a favore e soltanto 70 contrari. Però la Francia, l'Argentina di Miley risponde. Miley dice che l'aborto è sostanzialmente un omicidio aggravato dalla relazione tra madre e figlio. Credo che sia assolutamente vero. Alla fine quando si vede una mamma incinta accarezza la pancia, parla, ha l'aria trassognata e poi anche il corpo reagisce in modo straordinario alla gravidanza perché chi ha malattie autoimmuni si interrompono chi ha malattie come la sclerosi multipla si interrompe cioè si interrompe, si va in stand by poi dopo ricomincia, riprende tutto da capo ma nel tempo della gravidanza il corpo della donna subisce delle trasformazioni meravigliose. Come dicevamo, il problema dell'aborto rappresenta un qualche cosa di estremamente profondo, personale e coinvolgente. Non si rischia di fare dell'aborto l'ennesimo elemento per una contraposizione ideologica? Certamente, come lo si fa con la legge sul suicidio assistito cioè semplicemente questioni ideologiche. Uno che vuole suicidarsi vuole stare da solo spesso non lascia neanche grossi segnali o cose e il fatto che ci sia un'assistenza vuol dire non voler bene alla società ma voler bene al proprio partito, al proprio ideologia alla forza di restare in piedi, di restare a galla. Tu sei un uomo di chiesa quindi hai una visione della vita, del contesto legata anche alla spiritualità eppure in questi anni noi sentiamo parlare tanto di scienza, scienza, scienza al punto tale che la scienza forse addirittura è diventata la nuova fede perché è stata coniata un'espressione della quale vorrei una tua opinione. l'espressione è credere nella scienza, non è un controsenso? Non si può credere nella scienza che è qualcosa di creato e come ultimamente hanno creato un cartone animato in cui viene detto che all'inizio c'era Lucifero che era un angelo buono, pieno di creatività e Dio invece ribalta tutto eccetera. non può essere così perché comunque Satana è creato la scienza è creata e credere nella scienza vuol dire credere nell'effimero perché comunque, come dice una canzone di Edoardo Bennato di tanti anni fa le teorie che sembrano sicure poi scopri che non sono vere la scienza è in continua evoluzione la scienza non è altro che un'osservazione da parte di chi è incarato di osservarla dei leggi e dinamiche che ci sono per esempio recentemente si è scoperto che nel DNA c'è un codice che però non si capisce dove sia che determina anche fatti di scelte di vita o fatti di vita stessa per cui ci sono delle ricorrenze eccetera cioè quelle che poi gli animisti pensano essere la metensomatosi no? in realtà non è altro che un ripresentarsi sempre ecco va bene la scienza è arrivata a capire questo ma come non riesce ancora a capirlo allora cosa crediamo nella scienza? poi esiste un gruppo di scienziati di cui c'è anche una cattedra qui a Trieste che si intitola scienza e fede la scienza non può andare non può resistere senza la fede e poi ci sono tra questi scienziati c'è tutta la dimostrazione che il mondo è stato creato in un modo perfetto e che basta un minimissimo spostamento per cancellare la vita nel giro di un batter di ciglio ritorniamo in Francia la Francia è quella della rivoluzione francese quando veniva anche in quell'occasione poi inventata quella macchina di morte rappresentata dalla ghigliottina 70 anni fa l'ultima esecuzione in Francia l'ultima esecuzione in Francia di 70 anni fa adesso non ricordo come si chiamasse questa donna era proprio una donna che durante la guerra procurava aborti alle donne dei paesi, dei villaggi a un certo punto venne denunciata dal marito e poi guigliottinata dopo quattro anni dal processo quindi c'è una contraddizione una contraddizione alla base per concludere Don Lorenzo dove stiamo andando? ma stiamo andando come sempre Gesù dice chiedo scusa per la confusione Gesù dice senza di me non potete fare nulla lo dice diverse volte nel Vangelo soprattutto quello di Giovanni stiamo andando verso una privazione della nostra identità che però porterà appunto a persone forti di ricostituire e ricostruire un mondo senza altro migliore sempre è così per poter ridere un po' devo piangere questa è un'esperienza comune a tutti gli esseri umani senza un po' di sofferenza non c'è neanche la letizia si arriva a una letizia completa dopo anni di interiorizzazione e quindi evidentemente anche la società in questo momento vuole piangere perché ha riso troppo in precedenza tra gli anni 60 e gli anni 80 e adesso vuole piangere un po' poi dopo si risolleverà non so come non so quando molto bene io ringrazio Don Lorenzo Maria Vatti direttore di Radio Nuova Trieste grazie a te Mannino grazie a tutti a tutti qui grazie a tutti